buonasera ben trovata oggi è giovedì no oggi è venerdì 21 ottobre 2022 voglio vedere se sei pronta ok tu sei io sono Mary B e questo è Trenny Tigran voglio vedere se sei pronta Mary B e non so ma non mi freghi sui giorni della settimana è l'unica cosa che non mi freghi meno male che venerdì ed eccoci trovati ed è venerdì questo è il mio balletto del venerdì quando entro a lavoro io al venerdì ah brava 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 mi sembra giusto mi sembra giusto come stiamo Mary B bene dai bene è stata una settimana abbastanza complicata però ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta un anello al dito un anello al dito piccolino eh eh sì sobrio sobrio però va bene è andato tutto bene però è proprio bella questa fede lo sai che dovrai tenerla tutto il giorno tutti i giorni della tua vita tutto il giorno tutti i giorni tutta la notte per tutte le notti della mia vita per sempre che bella va bene va bene dai dai banda le cianci partiamo un amore all'altro partiamo con la posta del cuore gi 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 ora senti che bella notte sigla vediamo i drammi delle persone visto che il tuo amore è così bello il mio amore il nostro M noi adesso vogliamo invece sentire anzi farvi sentire i drammi di queste persone e noi poi gli daremo un consiglio ok dai dai sono curiosa maschi e femmina allora aspetta che la vada a cercare e abbiamo una femminuccia ok sempre loro quelle più messe male a livello amoroso ma perché secondo me voi maschietti vi vergognate anche secondo me perché in realtà i drammi dei maschi sono anche più corposi alle volte più interessanti più belli proprio sì 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 è vero perché si sa noi donne siamo un po' stronzette sì poi noi siamo sgamate loro no ok allora ciao Eri B ciao M M che falda che ti salutano era così bello quando dicevano ciao Eri B e basta ormai siamo una coppia anche noi una coppia di fatto vai mi chiamo Beatrice ho 22 anni sempre giovani sempre giovani gli anziani non ci guardano eh forse ci guardano più giovani evidentemente no sabato sera quindi la scorsa settimana sono uscita con un ragazzo con cui mi sono trovata molto bene bene ci piace partiamo bene chissà cosa vuol dire mi sono trovata molto bene che infatti poi dice continua e dice la serata è stata piacevole ci siamo divertite un sacco senti il prurito lo senti il prurito però però ci sono alcuni aspetti che mi mettono in allarme ma quali ho già dichiarato di essere una no ha già dichiarato di essere una persona molto gelosa e impulsiva hai attenzione gelosa no negativo però impulsiva perché eh dipende se l'impulso è quello di chiederti una sberla o di mandarti a quel paese era la prima cosa che dici oppure non riesce a contenere tutto cioè tutti i pensieri che ha infatti adesso la sua domanda è ho paura infatti sto esagerando ho paura di finire ancora una volta in una relazione tossica cosa mi consigliati di fare grazie un bacio ci manda un bacio è la prima persona che ci manda un bacio allora stranamente vai voglio sentire prima la tua poi ti dico sicuramente ti dico prova tanto voglio dire non hai niente da perdere invece già vedi io ho detto eriby dice next subito neanche senza allora la gelosia non mi piace però bisogna vedere che livello di gelosia è però se tu esci la prima sera con una persona e già subito capisci che è un po' geloso è un po' fuori dalle righe cioè hai già subito cioè hai già passato una relazione un po' tossica vabbè però i campanelli di allarme li hai dopo un po' cioè voglio dire ok questo ha detto sta stupidata la prima sera magari ha detto solo una stupidata sì infatti magari conoscino ma vatti con i piedi più ondo a me mi piace il curry alla prima sera poi qualcuno ti continua a cucinare il curry a una certa gli dici guarda che non mi piace più il curry magari è una stupidata ho capito detta così in semplicità comunque è molto importante secondo me eh come dice il reggito la scamorza fumicata eh oppure la scamorza fumicata perché tu l'hai detto io ho detto che mi piaceva la scamorza fumicata e il curry il problema è che poi ho mangiato per mesi interi curry e scamorza fumicate e adesso non li voglio neanche vedere in foto e comunque te lo sei sposato e comunque me lo sono sposato quindi inevitabilmente voglio dire magari una seconda chance io la dai magari la sono stupidata una seconda una seconda e cerchiamo un attimo di capire com'è però non andare subito a impelagarti in situazioni un po' no capiamo che cosa vuol dire più che la gelosia che secondo me è relativa capiamo che cos'è la impulsività esatto perché se questo è impulsivo perché prende e dice ok andiamo al mare bello bello se invece questo qua è impulsivo e dice sai cosa c'è ma è è un attimo vabbè quindi Erivi per concludere dai un'unica chance di nuovo io sono una non di più una non di più facci sapere come va perché siamo curiosa ok va bene va bene e quindi andiamo con la prossima rubrica che è una stupidata di dover dire di dire una stupidata si va bene che poi non era neanche una stupidata la mia era oddio si mi piace ma se hai appena passato una situazione una relazione un po' così soffocante perché andarti subito a mettere un'altra un'incordizia vabbè facci sapere Beatrice dai andiamo avanti quindi next rubricchetta che è ti sblocco il ricordo io sono sempre curiosa allora lo sblocco il ricordo di questa settimana è veramente una chicca tu ti ricordi gira la moda che non è vero perché questo gira la ruota già partiamo male con la sigla ma io vedo la foto ti ricordi il gira la moda? si che me lo ricordo si che me lo ricordo c'è anche forse avevo messo alla regia anche il link della pubblicità si può magari può passare vabbè intanto vi racconto che cos'è bellissimo che cos'è il gira la moda il gira la moda è un gioco da tavolo per bambine bambine pensate il sessismo quando era negli anni 80 prodotto da MB nel 1984 80 non l'avrei mai detto perché io me lo ricordo tant'è vero che io ho trovato un cartone cioè una scatola del gira la moda che non ha i colori che hai visto tu cioè quelli che hai visto tu sono più sgargianti sono più sgargianti quelli degli anni 90 esatto quelli del primo giro erano un po' più pallidini più tenui sì 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 ho visto va bene quindi il gioco consisteva nel creare dei modelli abbinando insieme diversi capi di abbigliamento si poteva decidere la faccia della modella ok guarda ti racconto tutto il piano di gioco consisteva in una serie di cerchi concentrici sì ok e girevoli che girati davano la possibilità di creare numerosi abbinamenti di vestiti bello il primo cerchio quello più interno era la testa della modella ok quello vedete adesso giallo vedi come era più più interno esatto sì a colore un po' pastello poi c'era quello intermedio che era la parte superiore dell'abbigliamento quindi la canotta la maglietta la giacca quello che era fino al busto camicie eccetera eccetera e quello più esterno c'è la parte inferiore quindi gonne e pantaloni quindi quello rosso guarda lì esattamente una volta scelta insomma la combinazione si poggiava un foglio di carta sulla ruota che veniva fissato con quello coso che si tirava su quello verdino ok ok ah guarda c'è il video c'è guarda guarda che bello ecco a voi le giovani si vede mamma mia vedi l'emozione delle grandi sfilate con gira la moda muovi la ruota e disegna per creare nuovi spavolosi modelli che bello vedere le vecchie pubblicità e tagliali per la tua fantastica collezione benvenuta giro la moda giro la vuota della tua creatività è tutta rotondata sì sì bellissima cioè praticamente diventavi diventavi una stilista ma infatti mi immagino chissà quante bambine poi hanno deciso di seguire quella strada ovviamente io questo gioco non l'avevo infatti la prossima la domanda era la bambina la bambina che abitava sotto di me lo aveva lei faceva un sacco di cosine e poi ha preso quella strada lì no non credo comunque il fermo praticamente fissava il carboncino e tu con la tua matitina facevi le tue cose bellissima ma ti piaceva giocarci quando andavi allora devo dire la verità non tantissimo ma perché in realtà non mi sono mai veramente piaciuti i vestiti le cose di abbigliamento sì sì ero troppo concreta già da bambina per questo mondo così un po' fru fru diciamo non ci interessava però era un gioco secondo me divertente anche creativo sì sì per un bambino anche appunto magari davvero qualcuno ha poi seguito quella strada perché si divertiva era bravo però mi ricordo che era una roba spaziale perché comunque vedevi una roba creata da te ma secondo me poi l'hanno anche un po' modernizzato mettendoci anche tipo stoffe cose perché mi ricordo può essere può essere assolutamente può essere può essere comunque viva gira la moda andate a recuperarlo che sicuramente su ebay da qualche parte c'è oppure se ce l'avete a casa lo vendete giocateci oppure giocateci bello ti sono piaciuti ti è piaciuto? molto come sempre i tuoi sblocchi ricordi la sblocca sono bellissime ok quindi andiamo la prossima la prossima la prossima la prossima che non sappiamo mai se qual è se sono gli eventi della settimana ti decide o io sgami di annan quindi potremmo andare avanti così per sempre decidiamo ah ok gli eventi della settimana è tu non andrai allora allora con che cosa vogliamo iniziare prima di tutto c'è qualche evento sugli animali che non ce li è più portati e tutti vogliamo sapere attenzione in senso molto lato c'è un evento sugli animali addio allora c'è uno spettacolo per bambini al teatro Guanella che sono i nostri amici ok sabato 22 domenica 23 al Guanella c'è un bellissimo spettacolo che si intitola dinosauri puntini puntini vivi ma in che senso non lo so bello però non lo so nel mio immaginario mi immagino quelli con il gonfiabile che fanno i dinosauri che fanno i balletti che dice nero uno in Duomo l'altro giorno eh lo so l'ho visto anch'io l'ho visto nelle foto di Kerk va bene va bene poi il sabato al forum c'è il concerto di 50 cents oh oh oddio è caduto tutto è volato tutto abbiamo rotto lo studio ciao grazie tu c'andresti al concerto di G io per niente per niente ho paura di essere derubata no no credo secondo me no poi ti piace correre guarda perché c'è l'ennesima bella bella corsa che è corri bicocca basta domenica non so dove penso in bicocca inizia la correre non ne possiamo più di queste c'è gente che è proude ah ok non ne possiamo più di queste corse con questo sono d'accordo con te poi il 25 ottobre cioè giovedì mercoledì a sud il mercoledì mi sembra prodotto c'è martedì c'è Sting al forum tu c'andresti al concerto di Sting ma se me lo regalo non si capisce niente dicono che sbiace così vabbè me lo regalassero no secondo me deve essere noiosissimo secondo me è anche divertente ti fai due risate no secondo me è noiosissimo noiosissimo e in concludo con vai col G aslaudia mi regia andrebbero al concerto di Sting l'ultimo evento è una roba che il titolo mi ha proprio preso e ho detto va bene devi entrare dentro questa rubrica che è dal 26-10 non so dove in realtà però fa niente c'è la settimana della pesca sostenibile oceani resilienti cosa ho pensato alla pesca io sto pensando al cibo ma infatti siamo fuori stagione però beh cosa vuol dire che gli oceani sono resilienti lo so magari la parola suonava bene comunque ci stava bene vabbè se ci andate diteci andresti a qualcuno di questi eventi sì ai concerti a me i concerti piacciono ok io ne uno ne l'altro ok andiamo avanti belli quindi andiamo alla rubricetta gli sgrami di M&M cosa ci raccogli oggi sulla tua milanesità acquisita visto che sto imparando io imparo imparo ogni giorno si impara qualcosa di nuovo qui a Milano per sciogliere le spalle esatto cosa hai imparato allora tu sei pronta con la tua agendina io il cellulare ok a me piace vedere il tempo che passa in realtà vi dico lo sgamo della settimana allora vi è mai capitato che qualcuno cioè arrivi a Milano trovi la tua casetta ok vai a vivere in questa zona in quest'altra zona ok e ti chiedono magari in che zona vivi e fin lì ci arrivi lo dici abito in zona San Siro abito in zona non lo so vabbè adesso mi vengono neanche le zone ma quando ti è capitato sì perché a me è capitato che ti chiedessero ma in che municipio vivi vabbè però te devi essere sul pezzo eh ribbi eh no e la prima volta che sono arrivata a Milano ho detto ma in che senso cioè e anche ho scoperto altre persone come me vabbè hanno fatto lo stesso pensiero hanno detto ma che cos'è il municipio pensa pensa che è passato dalle zone in cui senso in quale municipio vivi per me esatto cioè io penso Milano penso il sindaco Sala e fine e invece no e invece no e invece no la mia foto la foto che vedete non la mia foto la foto che vedete queste sono le divisioni dei municipi di Milano esatto i municipi sono nove esatto quindi il comune diviso in nove municipi partono dal centro il numero uno e poi fanno il giro in senso orario sì ok ad esempio quindi io ho scoperto di essere nel municipio Sette San Siro in municipio Sette e ogni municipio ha il suo presidente e anche il suo consiglio esatto che sono appunto eletti dai cittadini quindi quando diventerò anche io una cittadina reale milanese con la mia con la mia residenza potrò anche io votare per il mio municipio si vede perché questa è la differenza tra me e te perché quando si vota il sindaco si vota anche per il municipio esatto quindi mi raccomando preparatevi andate a vedere in che municipio vivete perché se vi capita la domanda in che municipio vivi chi è il presidente del tuo municipio che cosa fa il tuo municipio per la tua zona devi essere pronto anche perché è super importante per il semplice fatto che magari il presidente del municipio o qualcuno della giunta del municipio è il tuo vicino di casa esatto ad esempio il nostro è Silvia Fossati e mi sono preparata anche su questo ma come mi sono preparata guardando municipio X su Milano News quindi scusate endorsement endorsement scusate quindi al giovedì sera c'è municipio X con Francesca Cutrone che è la mia vicina di casa che quindi gli ho chiesto anche a lei di rimpettaia di rimpettaia esatto gli ho dovuto chiedere appunto un po' di conferme mi ha confermato che siamo nel municipio 7 brava ma io avendo già guardato le sue puntate ero già abbastanza pronta ma la domanda è tu sai dov'è il municipio 7 in che senso sì sì e dov'è a Baggio in via via Baggio brava a Baggio a Baggio a Baggio in via Baggio a Baggio va bene però ero pronta va bene brava 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 tutta questa milanesità acquisita ormai qua si portano perle ok siamo siamo in conclusione sì ok non abbiamo eventi nostri zero quest'anno quest'anno ci riposiamo io dormo come non so che cosa brava forse anche io qual'era la settimana scorsa la domandella della settimana scorsa la settimana scorsa la domandella era ma tu preferisci giochi da tavola o videogiochi e ti dirò ti dirò che dal sondaggio ti dirò esatto il sondaggio è stato fatto questa settimana l'86% ha votato giochi da tavola io videogiochi perché voglio giocare da sola ma come dai sono belli i giochi da tavola no no va bene mi piacciono tutti e due ma preferisco i videogiochi mi piace che io e te siamo sempre comunque diversi sempre comunque diversi anche nella prossima domandella sono sicura con quella con cui vi lasciamo ed è ma tu preferisci lo shopping fisico o lo shopping online non il Ciao a tutti